Tormenta, tormento. La tormenta è di neve, è gelida, insidiosa, congela, rende immobili come statue di ghiaccio. Il mio tormento è invece un fuoco da dentro che scotta il diaframma, è una bruciante fiamma che scuote, scoppietta, mette fretta, ribolle, come un uovo che cuoce sebolle, ed è atroce il fremito che nuoce, di grigna i denti, prevede spaventi. D'un orrore temuto di minuto in minuto, il tormento divora d'ora in ora, una mente che lavora sotto la dettatura d'una prova dura, un esame tardo, dun, maturo, in ritardo, studente testardo che scoccò il suo dardo, ha un bersaglio lontano, di fronte, si volge all'indietro dopo cinquant'anni caricato di affanni, già vittima di malanni, ed è colpito dalla vista d'un monte che gli oscura l'orizzonte, e capisce quel dardo perduto, come un addio o un saluto, lasciato andare per non vederlo tornare. Sempre un commiato mesto, un arrivederci presto.